Psicologia del tramutare Nel mio silenzio controllo la psicologia della mente Chi sono io? Un giudice di pace da brivido Cuore narratore Poeta naif salentino Posizione sociale, neutralista politico E chirurgo del pensiero Per contatti virtuali, video, tonificanti per l'umore Facebook e Youtube.com Editore M, sigillo d'autore Cordialità Per contatti virtuali, video, tonificanti per l'umore Per contatti virtuali, video, tonificanti per l'umore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posizione sociale, neutralista politico e chirurgo del pensiero. Per contatti virtuali, video, tonificanti per l'umore, facebook e youtube.com. Editore M, sigillo d'autore. Cordialità.